Ed ecco finalmente l'impostazione completata, o quasi, devo solo cambiare questo cavo fine e mettergli uno più spesso e magari nascondere quello. Le casse che stavano appese lì e lì sono state rimosse, i due centrali lì che erano parecchi inutili e si sentivano anche male e peggioravano anche il suono, sono andati via e ho anche pochi minuti qua sulla videocamera perché la memoria è piena, sintroplificatore, subwoofer, i due frontali e le due posteriori, subwoofer usiamo questi due, due casse in parallelo, lo so che sarà un po' uno spreco per i tweeter ai midrange ma insomma, otteniamo un basso decisamente migliori con quei due al posto di quello. Lo sai che vicino avranno un po' i coglioni pieni ma, insomma. questo qui non mi soddisfaceva tanto, si sentiva veramente bene come bassi però quando alzavi l'amplice scaldava troppo e poi andava sempre in sovraccarico l'amplificatore, invece con queste due no, devo dire che suona veramente bene, quello che mi dà fastidio sono queste plastichette che vibrano con nulla, mi stanno proprio sulle balle. insomma, l'impianto è completato, devo solo nascondere qui i cavi e questo e cambiali questo filo, per il resto va veramente bene, grazie per la visione, ciao a tutti.